Il progetto di autonomia differenziata, se portato a compimento, darà forma istituzionale agli egoismi territoriali della parte più ricca del Paese, amplificando e cristallizzando i divari territoriali già esistenti, con gravissimo danno per le persone più vulnerabili e indifese. E' quanto si afferma in un documento dal titolo La disunità nazionale e le preoccupazioni delle Chiese di Calabria, spunti di riflessione, pubblicato dalla Conferenza Episcopale Calabra con il quale si esprimono profonde preoccupazioni riguardo all'attuale dibattito sull'autonomia differenziata. Questa posizione scaturisce dalla preoccupazione che l'accentuarsi del divario nord-sud possa ledere la coesione sociale e il benessere collettivo della nazione. In contrapposizione a queste tendenze, i Vescovi propongono una visione di crescita armonica per l'intero territorio nazionale e sottolineano che la strada da percorrere è invece quella che passa dal riconoscimento delle differenze e dalla valorizzazione di ogni realtà particolare, soprattutto delle aree più periferiche e o interne. Questo approccio richiama l'importanza di una politica inclusiva che promuova equità e solidarietà tra le diverse regioni del Paese. Il documento dei Vescovi calabresi fa anche appello al principio di sussidarietà, citando Papa Francesco. Il principio di sussidarietà ha un doppio dinamismo, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Rivolgendosi alle loro comunità, i presoli invitano a non restare indifferenti di fronte alle sfide poste dalla legge sulle autonomie differenziate, incoraggiando l'organizzazione di occasioni di approfondimento e pubblica discussione. Non possiamo restare indifferenti, bisogna trovare vie perché si maturi la consapevolezza che il Paese avrà un futuro solo se tutti insieme sapremo tessere e ritessere intenzionalmente legami di solidarietà a tutti i livelli.